Wahey, ben ritrovati nell'AndroLink91 e ben ritrovati su Yo-Kai Watch Jam, Yo-Kai Academy Y E continuiamo quindi le missioni della scorsa volta, ovvero trovare i 7 misteri della scuola E vicino, ecco, così a me non lagga un po' di meno E parliamo con questa ragazzina che ha una quest per noi, non è quello della scorsa volta Mi ero fermato in un pub, poi non mi ricordo neanche se ve l'ho mostrato poi in video perché ho tagliato una piccola parte Però avevo trovato un tipo che aveva la missione M sulla testa e non quest come quelle che devo affrontare ora E praticamente, no, questa penso sia una cosa totalmente diversa Accettiamola Penso che con meno potremmo... sì sì, parla della scuola, perfetto Una mossa, grazie Con meno attiviamo ovviamente il punto di interesse o i punti E va bene, così proprio ragazzi lagga da far schifo, così invece c'è un po' di meno Ma preferisco tenerla così perché così non riesco bene a capire dove vado Certo, sia chiaro, non è proprio impossibile da capire Però è più comodo E se superiamo la mezzanotte credo ci fa scalare un giorno E quindi devo poi rientrare a scuola perché sennò perdo le lezioni Qui il sabato o la domenica non esistono Ho giocato un pochino con il crafting ma non avevo materiale per alcune cose super faighe E quindi niente Lei ci ricarica la salute e la pancia Non ho ben capito se la pancia è strettamente correlata a quanta salute perdiamo O a quanto tempo ci mettono a ricaricare le mosse Ma io in tal caso ricarico perché la pancia la consumiamo solo quando effettivamente Tu devi perdere male, mi dispiace La consumiamo solo quando effettivamente Posso saltare qui bene Solo quando siamo in lotta contro gli yokai e cose varie Ho fatto qualche lotta extra per vedere come si comportava la squadra E alla grande ragazzi Non posso proprio dirle nulla Ok questi qui Livello 70 In realtà il livello è solo indicativo Ah ma ce ne sono di più No mi trasformo anche così ecco Facciamo una cosa un pochino più veloce E' importante affrontare le lotte ve lo ripeto Come ho detto la scorsa volta perché salite di livello Ed è importante salire di livello in questi giochi Vedete l'ho quasi sconfitto già nonostante sia a livello 47 Ah eccoci qui al castello proprio Oh cavoli Clock? No Si qui si nasconde uno dei sette misteri della scuola Mystery twilight Non so come li chiamano di preciso nell'anime Perché l'anime non è che lo sto seguendo Però ho visto qualcosina Quando il level 5 ha ricaricato gli episodi Adesso mi sembra che l'abbia levati Ho visto l'episodio dove c'era Chiusella Mi pare si chiami Chiusella La tipa che è morta Che è morta Si in bagno E in festa ai bagni della scuola Ovviamente con un look rivisitato E l'hanno tipo fatta super top model Come Erra tra l'altro Anche se Erra qui sembra più una milf Che uno yokai Tipo San Dayukoma e gli altri insomma Mi sta simpatico San Dayukoma Qui non lo so perché ragazzi Jinpei si è protagonista Ma San Dayukoma è troppo Puccettoso Non lo so Dunque parlando con questo tizio Diciamo si e che cosa succede Ah i punti Ok Sì Funzionano in una maniera un po' particolare Ok Qui possiamo accettare quindi la missione Che dobbiamo affrontare Sì Vai Penso che farò tipo un mega video Dove faccio vedere tutte quante le missioni Perché Sono tante A quanto pare Ah ma qui c'è Chiusella Sì 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 ragazzi Sì C'è qui Chiusella Ma livello 79 Ovviamente è indicativo Perché ragazzi Li stiamo distruggendo Eh sì Vabbè Corre da solo Corre Va bene Va bene Ecco Meno male Non so se attivare ora l'onrio Perché non mi sembra il caso Pause No questo qua me ne occupo Mi punta lui Non che sia un problema eh Ah ma era un alleato quello Ah e se vado qui Nulla Ah giusto tanto per No gli è chiuso Non si guarda Che è successo Perché Tu che fai qui Perché si è trasformato Senza motivo Ok Ma ragazzi Mi sembrava che stesse spingendo da solo Ah ok Ho capito Eh sì però Non ci arriviamo Ah ce l'abbiamo fatta Ah e dobbiamo Ma è un punto di teletrasporto Cos'è Harry Potter Dobbiamo fare quindi le missioni Mentre Ci Cavoli E quanta salute mi hai tolto Con un attacco solo Sì Ti piacerebbe eh Che non mi ricaricassi per niente Ma scompari Ricaricati cavolo Mangia Mangia Oh Ci ha ricaricato Dove bisogna andare Non lo so Vado a caso Tanto dovunque vado Ci starà prenderci schiaffi qua No A sorpresa Vedi Non trasformo E che cos'è quello Mi trasformo Non è possibile Eh Scusami E dove vai Tengo bene i maro Vai Sì sì vabbè A scomparsi Perfetto Dove stavamo andando No di qua Vero No Non mi sembra Era di qua Sì era di qua A quanto pare Doppia Mamma mia Che ciofeche Che sono questi Ma con un attacco solo Con la x E poi Che fregatura Eccoci qua Un'altra missione Da affrontare Qui dentro Alla sconfiggere Sti cosi Beh Ah In un totto Di secondi Fatto Ah sì Abbiamo fatto Sì Vabbè Andiamo Vabbè Qualche moneta Non la prendo Ma non è importante Poi posso affrontare Gli yokai Che incontro Nell'overworld E quindi Farli secchi Faccio una cosa Vado a sin A destra Stavolta Prima sono andato A sinistra Ora vado Un attimino Di qua Vediamo cosa c'è Ah Perché c'è L'alleato Lì Ok Devastato Mamma mia ragazzi Che devasto Che facciamo Con I nostri yokai Ah ci stiamo avvicinando Alla meta Vado di qua Vabbè Ma sono delle ciofeche Sti nemici Raga Lasciatemelo dire Vanno giù Come nulla Vabbè Quello si trasforma Perché Lo sa lui Quadrupla Ah no Questo non è andato giù Peccato Mamma mia raga Potevo fare la quadrupla Ma che sta facendo La quadrupla Potevo fare la quadrupla Ah ok Qui cascano le cacche Facilissimo Facilissimo Che che è Yabai Yabai La pancia degli alleati È un po' giù Ma io non la ricarico Ora Anche perché Non ho Cioè Avrei Potrei farli mangiare Attenzione Siamo arrivati da lei A chiusella Cioè Ditemi Se Non sembrano top model Cioè Non così Solo la faccia No Però Nell'anime La fanno apparire Con un fisico Incredibile Che non credo Nessuna donna Possa Mai avere A meno che Non mangia nulla Mangia aria fritta Perché deve assumere Un po' di carboidrati Col fritto Sennò Non è utile Sì tesoro Io vorrei solo andare avanti Però Perché Non leggendo Non interesse Praticamente SNS Posso Loro due No Allora Meramerion Ovviamente Non è Non è Sopraffatto Dal Aia Dicevo Dal Dal calore Che emana Chiusella Ecco Ecco Già Già Così Vabbè Hanako Si chiama Ecco Hanako Boss fight Contro Hanako Sì però Stai buonetta Ma perché Se la prendono Sempre con me Ma che Che ho fatto Io Sempre con me Se la prendono Ma che Che ho fatto Io Di male Io mangio Mangio Per dimenticare Ah Schivato Come Mannaggia A te Hanako Non posso Usare Ah posso Usarlo Ok Ma mi sembrava Io non poterla Usare Ah Sì Dobbiamo andare Lì Ok Eh Non potevo Farlo Tesoro Mi dispiace Ma Mi stavo Trasformando Scusami Eh Mannaggia A te Bene Se li prendo Io non li può Prendere Lei E quindi Rimane Fregata Bene 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 Non so Cosa Servano Però Intanto Io li prendo Che cavolo Ma si Trasportata La Befana Maledetta Ma si Vabbè Ma si Teletrasporta Befana Maledetta Dov'è Su Ma si ricarica Tipo la vita Ah È rosso Befana Maledetta Sì Vabbè Vita Vita proprio Scarica Ma Meno male L'ho ricaricato Da solo No eh Ragazzi No Ricaricatevi Perché Non può essere Tu Mangia Porca miseria Mangia Mangia Vai Perfetto Raga E tu Sei carico No Ma Parte mangiare Trasformati un po' In shishio Mannaggia A te Oh Vai Ah Ancora Ste luci Mazzunna Ragazzi Eh vabbè Lo prendere Lo prendere Oh eh Sì Vabbè Però se Le compaiono Vicini Non è proprio Facile Sì Fa facile Essa Vai Cosa Come Ma Come È morto Ma A caso Qua Muoiono A caso Vabbè Rifacciamola E dopo due Clamorose Sconfitte Sono tornato Da Anaco Dopo aver Appunto Svolto le altre Missioni Che avete visto Negli episodi Precedenti Infatti Era di un livello Molto più basso E adesso Sono oltre 70 Quindi Insomma Diciamo che Me la sentivo Di riuscire A sconfiggerla E L'ho Devastata Sì Ho dovuto Insomma Ricaricarmi Un pochino E stare attente Sui attacchi Ma L'ho distrutta Come potete Anche ben vedere Dalle immagini Me la sono cavata Molto bene Ho attaccato Di continuo Ho schivato O meglio Cercato di schivare Tutti i suoi attacchi E sì Ho detto appunto Che ho dovuto Ricaricarmi Un paio di volte Perché proprio Mi è tolto Tantissimi Punti danno Con un attimo Quindi ho detto Ehi aspetta Io voglio vincere Devo vincere Non posso far sì Che mi attacchi Come e quando vuole Quindi Ho ricaricato Un po' la salute Gli altri Mi sembra Che non siano Mai andati KO Anche se ero Troppo concentrato Sul delay Sull'attaccare Io neanche guardavo Quello che faceva Il mio personaggio Io guardavo Solo lei E cercavo Di attaccarla Il più possibile Con l'attacco A ricerca Con L'attacco Della lacerazione Appunto Con la spada Che non si chiama Proprio lacerazione Ma avete capito E poi quando purtroppo È finita la trasformazione Sono tornato normale E ho continuato A torchiarla Di botte Con I knuckle Ma È stata molto più facile Di quanto non fosse 20 livelli prima È anche vero Che però Ho modificato Un po' L'equipaggiamento Ho assegnato Strumenti più forti Per attaccare E appunto Nuovi attacchi Nuove abilità E tutto quanto Questo ha fatto Brodo E per far sì Che appunto Io riuscisse A sconfiggere Hanako E ce l'ho fatta Per fortuna Una volta finita La battaglia Contro Hanako Sono arrivate Delle sue Fan Perché lei dovrebbe Essere una specie Di tipa Che fa le sfilate Non ho ben capito Ma In ogni modo I riflettori Nel bagno Ci sono Per un motivo E sembra che lei Faccia queste sfilate E cose varie E Poi Siamo andati Dal preside A dirgli Guarda preside Abbiamo fatto Questo Questo E quell'altro E adesso È tutto quanto A posto E i sette misteri Della scuola Sono conclusi Se non che C'è l'ultimo Che è Il cerchio Y Il Y Circle Questo Y Circle Si trova in mezzo Alla foresta Più o meno Io saprei anche Dov'è L'ho visto Nella demo Ma Insomma Adesso possiamo Vederlo in tutto Il suo splendore E Questo conclude L'episodio Sette A quanto pare Però La cosa Che più Mi ha lasciato Sorpreso È che O meglio Quasi sorpreso Perché un po' Ci speravo In un ritorno Di Ranto Ranto Sembra interessato Al cerchio Y Quindi Vedremo Che cosa Ha lui A che fare Con questo Cerchio Y O Y Circle Chiamatelo Come più Vi aggrada All'ogni modo Questo video Termina qui E so Che potrei Andare avanti Ma Non ho altro Materiale Perché appunto Questo è una specie Di voice over Simil voice over Perché appunto Ho giocato tantissimo Nelle ultime ore E sono un po' Stanco Quindi Io come sempre Vi ringrazio Per aver seguito il video Vi ricordo Che in descrizione C'è sempre il link Per instagram E se ancora Non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi Ci vediamo Come sempre Al prossimo video Bye bye Bye